la registrazione in corso buongiorno a tutti sono le 9.11 procedo con l'appello chi ha bisogno della giustifica la chiede corrente? sì buongiorno presente in presenza con attestazione grazie Bedoni? Burgio? Burgio la presente Canale? buongiorno Grazioli? Sordini? vecchio faccio una seconda chiamata per il consigliere Bedoni Grazioli Sordini che vedo ma non sento perfetto possiamo procedere Sordini presente eccomi perfetto perfetto allora abbiamo il verbale non divido lo schermo ok abbiamo il verbale dell'11 settembre con approvazione verbale 4 settembre audizione ufficio di città metropolitana di Roma capitale per problematica dei piatti semaforici di illuminazione pubblica su via lauretina di verdina extra gra elaborazione bozza proposta di risoluzione al servizio bus chiamata esame posto a varie eventuali seduta a pre 95 parte 2 delegato consiglia metropolitana dottoressa chioccia assessore nomori pubblici municipio Roma 9 euro Roma maiuscolo dipartimento viabilità e mobilità servizio tra viabilità su città metropolitana di Roma capitale verificata la presenza del numero legale corrente approvazione verbali approvato ed è l'ora del 4 la seduta riprende a 930 presidente apre punto 2 all'odg audizione ufficio città metropolitana di Roma capitale per problematiche impianti semiforici numerazione pubblica su piella argentina via piatina estra gra il presidente introduce brevemente l'argomento rappresentando quanto emerso nella seduta in cui si è trattato l'argomento ricordando le segnalazioni riguardanti i schematoli spenti o già l'intermittente la mancanza di illuminazione dall'incrocio no e dalla rotatoria rotatoria cosiddetta scalella alla rotatoria del cimitero le problematiche legate alla via di Atina nello specifico a Borgosorano dove il semaforo non è ancora no nello specifico a Borgosorano allora le problematiche legate alla via di Atina a Borgosorano perché dove la semafora la temporizzazione è sul quartiere Spregamore non è a Borgosorano le problematiche da via di Atina vabbè nello specifico a Spregamore togliamo Borgosorano adesso nello specifico a Spregamore dove al semaforo non è ancora attiva la temporizzazione che per esempio mette la svolta verso il quartiere ovvero la svolta a sinistra perché dopo mezzo deve girare a sinistra senza incontrare vetture contrarie vogliamo pure Borgosorano tanto è segnalato lascio la parola al referente al Dipartimento di Viabilità e Mobilità della città metropolitana il Dipartimento fa un'ampia dettagliata panoramica della situazione partendo dai semafori previsti su via Laurentina per i quali sono previsti molti interventi partendo dalla riprogrammazione del centralino semaforico a Spregamore che è sull'Ardiatina perché anche lui faceva un po' saltava da Laurentina a Ardiatina molti interventi partendo dalla riprogrammazione del centralino semaforico a Spregamore sull'Ardiatina per i quali si sono valutate varie opzioni come la ridistribuzione delle corsie non ci sono gli spazi nei tempisti e la modifica normativa vigente i lavori sono iniziati con il cambio delle lanterne per quanto riguarda l'illuminazione è stato fatto un accordo con ANAS nel quadro dei lavori giubilari intervenendo a partire dalla rotatoria come quella del cimitero a Laurentino quella di Trigori eccetera ma al momento non sono stati aperti ancora a quantieri quindi non sono ancora iniziati i lavori per quanto riguarda l'Ardiatina si partirà dall'uscita del graffino al Divino Amore si tratta di un intervento complesso che comprenderà l'efficientamento degli impianti presenti e il loro rifacimento ex novo con le specifiche e gli areti invierà alla commissione tutta la documentazione dettagliata il cliente corrente di domanda conferma circa la chiusura dell'operazione prevista nel 325 il dipartimento conferma per la parte di volanti semafori ma non per l'illuminazione che riguarda ANAS e non sa ancora come è organizzato i lavori i lavori il direttore il direttore l'assessore tranquilli riferisce di aver parlato con l'assessore capitolina segnalini per vari interventi ed è anche segnalato le segnalazioni pervenute dalla commissione sia di quelle entro graffi che spettano capitale che quelle estera graffi spettanti a città metropolitana ha anche visionato la documentazione inviata dalla città metropolitana ed è previsto un incontro anche con il dipartimento SIGIMU SIGIMU presente corrente riferisce che la commissione sta preparando una proposta di risoluzione per l'attivazione dell'illuminazione del tratto stradale estera graffi no l'abbiamo già votata SIGIMU 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 Riferisce che la commissione ha portato in consiglio una risoluzione per l'attivazione dell'illuminazione che è stata votata domande informazioni sull'attaccavitina oggetto di una passata seduta di commissione il dipartimento riferisce che è stato prodotto un buon oster ma che l'assessore a giudice ha riferito che manca ancora un altro documento il presidente corrente conferma che manca la termina di traffico il dipartimento assicura che l'entrata del dirigente preposto sarà fatto esaurito l'argomento 9.53 il presidente concede una breve pausa la seduta riprende le 10 il presidente ha per terzo punto l'udici elaborazione posta di proposta di insoluzione del servizio bus chiamata il presidente riassume quanto è emerso la seduta alle 4.9 ritenendo buona la proposta di dare a proposta la sì la proposta proposta mettiamo ritenendo buone le proposte no le proposte le osservazioni proposte da Roma Servizi ha ritenuto opportuno preparare allora ha ritenuto buone le osservazioni proposte da Roma Servizi c'è un'altra proposta ha ritenuto buone le osservazioni elaborate da Roma Servizi ritenendo ritenendo buona le osservazioni esposte da Roma Servizi per la mobilità ha ritenuto opportuno preparare una proposta di risoluzione per lo stesso servizio in questo municipio ricorda che sarebbe il primo municipio aderire dopo il quindicesimo municipio che lo ha proposto riguardo alle aree da individuare ritenere che si deve fare una valutazione collettiva l'obiettivo è arrivare dove non c'è o non ci sarà più il trasporto pubblico Roma Servizi ha suggerito le aree interne di via Laurentina no togliamo questa frase perché Roma Servizi aveva consigliato altre cose ricorda che mezzo è a nove posti e omologato a trasporto pubblico il progetto sì no allora ricorda che mezzo è a nove posti e non è omologato a trasporto pubblico però togliamo anche questo ricorda che mezzo è a nove posti punto il progetto tende al collegamento verso il trasporto su ferro a suo parere Trigoria apparirebbe una delle soluzioni una delle soluzioni dell'ipotesi anche perché con la riorganizzazione delle linee la linea 795 sarà soppressa perché non sarà soppressa sarà oggetto di rivalutazione soppressa di rivalutazione perché non particolarmente usata si deve valutare se proporre le tre proposte emesse nella scorsa seduta o individuarne altre la proposta di risoluzione tende all'individuazione di fondi per avviare i servizi il servizio potrebbe interessare anche Schizanello ma un'utilizzo più bassa così come Santa Parola si dovranno valutare anche alcune laterali di via Castel di Leva e anche Castel di Decima la consiglia canale suggerisce di non specificare le zone lasciando che sia l'agenzia Roma Servizi per la mobilità in base ai dati in loro possesso individuarne il corrente crede che potrebbe essere un'opzione per creare una bozza per la prossima settimana per il quarto punto all'odg la consiglia canale segnala ritrovamenti archeologici in via Capolino no via Capolino nell'area dell'intervento urbanistico ex Capolino ex Capolino ai confini del nono municipio ritenendo importante capire di che tipo di reperti si tratti il corrente contatterà l'ultimo municipio per capire lo stato delle cose consiglia Grazioni propone di inserire nella proposta di risoluzione una consiglia preferenziale per le persone con disabilità come l'esempio e la priorità nelle granitazioni questo non l'ho messo inoltre riferisce del fatto delle verifiche a seguito di segnazioni di cittadini riguardo al fatto che non tutti gli autobus sono dotati di pedane dedicate domanda la possibilità di richiedere se i nuovi mezzi acquistati ne sono dotati riferisce che la Presidente De Vivo ha fatto una ricondizione sugli uffici ma a suo parere sarebbe utile farla sui mezzi pubblici il Presidente Corrente ricorda che circa un anno fa con la direzione tecnica è stato affrontato il discorso delle barriere architettoniche dal punto di vista dei lavori pubblici esaminando l'elenco redato dalla direzione tecnica di tutti gli edifici pubblici che necessitano di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche individuando anche una scala di priorità gli interventi riguardavano uffici pubblici comunque per l'utenza debole come le CSA scuole eccetera eccetera la consiglia canale segnala che anche alla ASL di via e all'Ipparine ci sono grosse difficoltà legate alle barriere tettoniche consiglia Grazioni suggerisce preparare due documenti separati il presidente accoglie le richieste e ricorda che la prossima settimana si tratterà dello stato dell'arte del capodinio di via Guast esauriti tutti i punti dell'Odc al 10.30 il presidente dichiara chiusa la seduta allora se non ci sono osservazioni da parte dei commissari lo diamo per approvato nella seduta odierna allora andiamo un attimo se ne rimane scusate di monte la commissione ok allora niente allora vedo che è entrato il consigliere Grazioli Sì 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 grazie Grazioli ha lasciato la mano Sì grazie presidente no solo per dire che sono presente che non mi riuscivo a collegare perché purtroppo sul calendario non risultava la convocazione della commissione Sì sì c'è stato un problema con la piattaforma tra cui Maria ieri aveva mandato un'email e oggi il consigliere Bedoni ha messo il link sulla chat insomma quindi è una fase di transizione tecnologica informatica quindi insomma subiamo un po' di disagi ce ne siamo accorti ieri che non c'era né la nostra né nella seconda commissione allora vedo signor Santilli sì Sì presidente buongiorno buongiorno a tutti no concordo con il fatto sulla frase che la linea 795 non dovrà essere soppressa ma semmai riorganizzata ottimizzando il percorso perché comunque ha una sua funzione vale il percorso sicuramente sì ok ma infatti in fase di valutazione nella revisione delle linee estera gra quindi insomma però sì ha un utilizzo oggettivamente molto 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 basso è solo in determinate fasce quindi insomma necessita di un intervento più mirato ecco non così è assino come la vetta perché come la vetta è stata utilizzata consigliere Bedoni sì buongiorno forse mi vedevate connesso ma non ho risposto all'appello perché ero in metro comunque presente senza giustifica grazie ok allora allora niente io direi siccome il secondo punto alle 9.30 ancora il dipartimento non ha dato notizie non vedo ancora sospendiamo fino alle 9.30 insomma finché il dipartimento non si collega e magari faccio un salto da Maria vediamo se riusciamo a contattare il dipartimento per verificare la sua presenza quindi possiamo sospendere la registrazione interrompo la registrazione sono le 9.24 la registrazione è in corso sono le 9.40 ok allora abbiamo ripreso l'administrazione e gli nostri uffici hanno contattato il dipartimento Maria cosa cosa è emerso l'ingegner Bullotta con cui ho parlato è già in un'altra commissione all'undicesimo municipio e ha chiesto in futuro di farglielo sapere un po' prima perché questa commissione l'aveva invitato prima insomma ok niente siamo arrivati allora facciamo così per quanto riguarda il punto 2 allora preparo una notte in giornata la mando alla Bullotta e informiamo il comitato della risposta insomma quindi è strano perché solitamente insomma mi comunica la disponibilità evidentemente insomma è stata un po' di sovrapposizione di impegni niente io lascio comunque la parola insomma se vogliono di qualcosa il comitato di quartiere insomma Santilli di Trigoria nel merito appunto ripeto l'impegno appunto di o per le vie brevi quindi telepaticamente in giornata tanto dovrei incontrarlo in altre occasioni Bullotta probabilmente anche in giornata quindi insomma o per le vie brevi o in forma ufficiale con una nota mi impegno a avere informazione sulla data di attivazione del capolina di via Guasta che appunto nell'ultima commissione che abbiamo fatto mi pare nel mese di luglio era stata prospettata con l'inizio dell'anno scolastico comunga ridosso della metà del mese siamo al 18 settembre quindi ci sembrava doveroso anche su solicitazione per il comitato di quartiere di prendere il tema per avere una risposta certa però ecco mi impegno a dare riscontro alla commissione chiaramente al territorio della tempistica Santini vi hanno calzato la mano Sì grazie sicuramente aspetto che il momento venga riconosato a breve possibilmente magari la prossima settimana no? Si sente male si sente ovattato anche per la verbalizzante non so Maria come senti tu? No no infatti stavo dicendo io sento malissimo ok mi sentite meglio? un pochino meglio sì allora dicevo sicuramente l'anima per riconvucare l'ingegnere gullotta più presto possibile la settimana prossima per evitare che poi questa diventi una storia infinita quindi considerando la segnaletica era stata completata già da maggio chiaramente ora i cittadini si aspettano la conclusione di questa di questa cosa altrimenti diventa un po' vilare insomma no? per cui speriamo di chiudere a breve questo momento come era stato pianificato per cui rispetto alla settimana prossima magari venga convocato l'ingegnere facciamo un punto aggiornato sì sì io confido di poter avere una risposta prima della settimana prossima per quello ripeto in giornata contatto l'ingegnere gullotta e se ho notizie prima della settimana prossima sarà mia cura informarvi sulla tempistica qualunque se sia insomma o le motivazioni che ci verranno date nel tema e poi da lì vediamo se eventualmente convocano commissione se la risposta è soddisfacente nei termini appunto dell'attesa del territorio ok la ringrazio va bene grazie a voi della partecipazione allora 945 allora riprendiamo il tema passiamo al punto 3 scusate passiamo al punto 3 che era quello relativo al bus a chiamata che abbiamo affrontato nelle precedenti sedute del 4 e dell'11 in via informale come ricordate nella seduta del 4 proprio a ridosso dell'inaugurazione del servizio che poi si chiama clickbus attivato a Massimina il proprio 4 settembre o il 5 settembre avevamo convocato Roma Servizi per farci spiegare un po' la genesi di questa faccenda di questo servizio e ci hanno appunto esposto il come il perché tutti i vari passaggi e le esigenze che ci sono per attivare questo servizio abbiamo fatto la settimana successiva una commissione interna nella quale abbiamo individuato le modalità diciamo di un criterio attraverso il quale individuare da una parte la metodologia di individuazione delle aree e quindi adesso siamo nella fase diciamo conclusiva dove è stata elaborata una bozza di risoluzione che ho condiviso ieri sera ahimè con la commissione ho già ricevuto alcuni feedback da alcuni commissari e quindi a questo punto io condividerei lo schermo e la commissione la bozza di risoluzione allora io ho ricevuto una segnalazione dall'ingegnere dal consigliere Bedoni però quanto chiede di inserire è già inserito nella risoluzione mentre invece la consigliera Canale ha portato delle integrazioni e quindi è la versione diciamo più aggiornata condivido quella e a favore Bedoni consigliere Bedoni sì Presidente io non no non ho chiesto di inserire una cosa probabilmente perché se lei vede dalla bozza che ci ha mandato aspetti che rispondo la mail il postamento credo che sia Aurelia non è una fermata nostra cioè credo che vada modificato con l'Aurentina secondo dove prendere la mail che sta in movimento no no allora rileggiamo il tutto no l'attuale servizio serve il quartiere Massimina per portare la fermata Aurelia cioè nel considerato prendiamo esempio quello la sperimentazione di Massimina che serve la stazione Aurelia poi noi quando entriamo ok è la descrizione del servizio attuale cioè della sperimentazione attuale che serve il quartiere Massimina per collegarlo alla stazione ferroviaria Aurelia poi parliamo di noi non avevo minimamente capito ok quindi no no viene citato comunque adesso le rileggiamo alle linee basse già esistenti ok grazie del quartiere Massimina chiaro ok comunque tanto ok lo rileggiamo e allora condivido schermo schermo allora eccolo qua allora la consigliera vecchio sì scusì non ho visto la mano sì grazie presidente no pure io avevo letto questa cosa dell'Aurelia e la sto rileggendo anche in questo momento però per come è costruita la frase sembra proprio che riguardi il nostro territorio l'Aurelia quindi facciamo una cosa rileggia tanto è una bozza consigliera vecchio è una bozza la mettiamo a disposizione della commissione e la integriamo la corregiamo come meglio opportuno riteniamo sì sì a parte questo poi un'altra altre due cose nel visto che durante la commissione quattro mobilità e periferie e invece commissione tre e poi volevo aggiungere una cosa però consigliera vecchio scusi lavoriamo con metodo adesso io condivido la risoluzione ce la leggiamo punto a punto e dove c'è da intervenire Maria interviene in tempo reale per car word e quindi se no facciamo la word ok ok no pensavo che la ok lavoriamo con metodo quindi adesso la condivido e e quindi lavoriamo direttamente Maria direttamente il word sotto e quindi controlliamo quello allora delibere da lavorare allora prendiamo quell'ultima dicevamo con le integrazioni della consigliera canale ok la vedete tutti no Maria ce l'hai in word tu eh sì allora perfetto proposta di risoluzione iniziazione aree del municipio Roma 9 euro per valutazione dell'attivazione del servizio del fronte pubblico denominato click bus premesso che la mobilità sostenibile è un valore per la cittadinanza deve essere un obiettivo primario delle politiche pubbliche l'utilizzo del mezzo pubblico è uno degli strumenti atti a attivare politiche di mobilità sostenibile le zone estragra in particolar modo vedono nel mezzo pubblico uno strumento alternativo al mezzo privato in quanto indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro di studio l'utilizzo del mezzo pubblico da parte della cittadinanza contribuisce a ridurre il traffico veicolare sulle consulare ridurre le zone estragra un conseguente del congestiamento del traffico stesso ed una maggiore funzionalità del servizio pubblico considerato che allora la versione originale partiva il 4 settembre è partita la sperimentazione nuova servizio del porto pubblico chiamata servizio click bus la consigliera canale ha integrato quanto è indicato in grassetto quindi considerato che integrazione consigliera canale l'idea di creare un autobus on demand per i quartieri meno serviti nasce nell'agosto 2016 in occasione del bando periferie e viene poi sviluppata negli anni successivi e lo scorso 4 settembre del 2024 integrazione grazie a quei fondi ritorna è partita la sperimentazione nuova servizio pubblico ha chiamata denominato click bus allora se ci sono osservazioni su questa integrazione al consigliere canale è vero che nasce grazie alla partecipazione di roma capitale al bando periferia 2016 e che poi appunto l'elaborazione di quel bando contribuì al finanziamento del progetto e quindi anche all'erogazione dei fondi relativi quindi insomma mi spaventa il fatto di mettere che nasce tutto nel 2016 si fa nel 2024 come se servissero 8 anni per fare una roba del genere ahimè forse sarà anche vero però un po' mi inquieta però detto questo c'è stato il covid sì sì però sai sì sì no è vero c'è stata l'interruzione insomma oggettivamente sì sì va bene dai diamoci l'attenuante del covid allora se per i consiglieri per tutti gli altri consiglieri va bene possiamo procedere in tal senso allora non vedo le mani le guardo tutte ma le consigliera vecchio è quella di prima quella di oggi di adesso è quella di prima andiamo avanti procediamo con ordine presidente ok 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 allora ne abbasso la mano allora ritorniamo qua allora considerando che il servizio click bus è un servizio innovativo gratuito ed accessibile a tutti che non prevede un percorso prefissato all'interno delle quartiere né fermate predefinite ma si adatta in modo flessibile alle richieste di spostamento dell'utenza per soddisfare al meglio le esigenze e le diverse esigenze di trasporto individuale il servizio si aggiunge alle linee bus della zona per aumentare l'offerta di trasporto per gli spostamenti interni del quartiere dai vera sulla stazione ferroviaria Aurelia ok avete ragione allora possiamo specificarlo meglio il servizio attualmente in funzione nel quartiere Massimina ok così lo dettagliamo e spieghiamo perché va l'Aurelia il servizio attualmente in funzione nel quartiere Massimina si aggiunge alle linee bus della zona Massimina per aumentare l'offerta di trasporto per gli spostamenti interni del quartiere e verso la stazione ferroviaria poi se volete a scanso gli equivoci possiamo anche togliere Aurelia così no che dite secondo me va bene adesso quindi lasciamo così com'è perché nel quartiere attualmente in funzione di massimina serve la stazione Aurelia è dettagliato meglio il nuovo servizio click bus mettiamo allora l'attuale servizio così vediamo anche qua in comprensione lo sto corrigendo io Maria quindi poi dopo tanto questo si salva automaticamente sulle piattaforme giusto infatti stavo iniziando a scrivere e mi si spostava l'attuale servizio click bus viene svolto tramite tre vetture dedicate al quartiere massimina con capacità di otto posto e predisposizione per una carrozzina a vettura per persone con ridotta capacità motoria il servizio gratuito è attivo tutti i giorni festività inclusi dalle 5.30 alle 24 considerate quando poi aveva le sue osservazioni me le segnali quando arriviamo al punto che volevo indicare prima considerate inoltre che numerose sono le aree extragrade del municipio Roma 9 euro non servite dal servizio pubblico che necessiterebbero di un collegamento con la metropolitana e o le stazioni fermate le stazioni o fermate o fermate ferroviarie presenti nel municipio stiamo nel 2015 è stata soppressa la linea 704 che serviva il quartiere di Castel di Decima la linea 795 che serve il quartiere di Trigoria risulta sottoutilizzata l'area decente alla via Ardiatina ai confini con Pomezzo è poco servita e necessiterebbe di un collegamento diretto con la vicina stazione ferroviaria di Santa Palompa alcuni quartieri in prossimità di via Laurentina di via del Castel di Leva via Castel di Leva nel tratto Estragrà non sono serviti dal servizio pubblico e necessiterebbero di un servizio che li possa collegare con la metro B Laurentina visto che nel corso della commissione 3 mobilità la Repubblica e periferie del municipio Roma a 9 euro del giorno 4 settembre 24 è stata udita l'agenzia Roma Servizi per la mobilità che ha illustrato sia le modalità di utilizzo del nuovo servizio Clickbus che il percorso che ha portato alla sua realizzazione grazie a un finanziamento dedicato a seguito dell'analisi dell'area interessata al servizio durante la commissione 3 mobilità lavori pubblici e periferia del municipio Roma a 9 euro del giorno 11 settembre è emersa l'esigenza di individuare alcune possibili aree del municipio Roma a 9 euro secondo un criterio di funzionalità ed efficienza dell'intervento acquisiti i pareri il consiglio del municipio Roma a 9 euro impegna il presidente e l'assessore alla mobilità del municipio Roma a 9 euro ad attivarsi nei confronti dell'assessore alla mobilità di Roma Capitale al fine di incaricare l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità di effettuare un'analisi delle aree di Castel di Decima Trigoria Santa Palomba quartiere decente la via Laurentina e via Castel di Leva per individuare quella che in termini di costi benefici possa essere indicata per l'attivazione del nuovo servizio di trasporto pubblico chiamata denominato Clicbus integrazione canale in grassetto per disponere una capillare informativa ed un soldaggio conoscitivo sui territori sottoposti allo studio allora consigliere Avecchio la sua osservazione era sulla commissione quarta commissione tre giusto? l'abbiamo corretta no no non solo quella volevo fare un altro intervento no sì l'avrei detto prima l'avrei detto durante la scorsa commissione ma ero sostituita dalla consigliere Avecchiari quindi non ho potuto ok no volevo dire che alla luce del fatto come sapete la Vacheria ha riaperto con una grande mostra un grande flusso di persone eccetera eccetera sono pervenute anche ultimamente richieste di attivare il bus quindi mi chiedevo se visto che noi avevamo già discusso di queste eventualità che c'era il problema del bus che non c'era lo spazio per la fermata se si volesse fermare giù se invece volesse arrivare fino sopra comunque era troppo era troppo pesante mi ricordo che i problemi erano questi e nel giusto che questo bus visto che è più piccolino si poteva inserire l'eventualità di di attivare il bus a chiamata magari nel weekend per per il trasporto verso verso la Vacheria se è una cosa che pensiamo possiamo aggiungerla sì sì questa è una bozza posso dire vecchio quindi insomma sono gravite tutte le osservazioni e integrazioni funzionali insomma al servizio noi abbiamo fatto una risoluzione nel l'anno scorso forse anche prima in merito appunto all'attivazione di una linea per la Vacheria e so che Roma se non conto so che l'assessore Angelucci l'aveva seguita e in una mia interlocuzione con Roma Servizi si era avevano evidenziato quello che diceva Lecce quindi che l'autobus non può salire fino su per la conformazione della strada il raggio di curvatura e le dimensioni viarie però avevano individuato una possibilità di fermata del 778 adiacenza parco del Castellaccio che permetteva con l'attraversamento del parco di attivare lì non so che punto è quel quel percorso bisognerebbe sentire l'assessore Angelucci che peraltro alla quale io ho mandato anche la risoluzione quindi insomma è a conoscenza del fatto che oggi stiamo trattando questo tema però non si vede che aveva altri impegni e non la vedo però insomma possiamo tranquillamente inserirla poi è chiaro che noi abbiamo adesso il mandato a Roma Servizi di fare uno studio se poi nello studio risulta che la vaccheria risulta servita da probabilmente servita da un servizio che prevede altre soluzioni ripeto il 778 con la fermata Castellaccio saranno loro a dirci in vaccheria no perché la serviamo così Castellaccio di decima no perché vediamo la cosa quindi insomma va benissimo insomma quindi però lo mettiamo a questo punto anche nel considerato assieme alle altre no giusto perché così poi lo riprendiamo nel dispositivo quindi considerate inoltre che va bene allora 795 considerate inoltre che allora già va bene allora più inoltre che dottoressa vecchio consigliera vecchio mi dica lo spazio espositivo denominato vaccheria la vaccheria vaccheria come si chiama vaccheria la vaccheria sì la vaccheria dunque il fatto della vaccheria è è presenza un'affluenza di pubblico importante in occasione delle molteplici manifestazioni che vi vengono organizzate e non usufruisce di un servizio di trasporto pubblico diretto allora considerate che lo spazio espositivo denominato la vaccheria presenta un'affluenza di pubblici importanti in occasione che vi vengono organizzate e non usufruisce di un servizio di esporto pubblico diretto va bene non considerato sì perfetto ok e quindi andiamo sotto di effettuare un'analisi delle arricasse di la Santa Palomba la vaccheria così magari ci aggiungono comunque possiamo anche informare io per capire che punto è attraverso l'assessore Angelucci che punto è la nostra risoluzione del lontano 22 23 così vediamo un po' insomma se riusciamo a passare questo passaggio della vaccheria Santa Palomba quindi abbiamo aggiunto la vaccheria in su presponendo la informativa e un sondaggio conoscitivo sui territori sottoposti allo studio ok allora ritorno da voi eccomi qua ah Stasi sì sì buongiorno presidente buongiorno a tutti qua sì in merito a questo servizio che direi proprio un'ottima soluzione per tante tante quartieri volevo riportare alla luce il problema parlo della zona di Trigoria chiedo scusa sempre il problema del famoso 795 a parte del bus dove è grosso ma anche soprattutto servire con questa soluzione la parte di Trigoria alta che voi conoscete bene dove noi abbiamo diciamo fatto tante richieste per questo servizio quindi volevo chiedere se era possibile aggiungere come zona questo servizio anche per Trigoria alta perché abbiamo questo problema quindi tutto lì e ci sono altre zone è stato pure parlato di un ampliamento un piccolo ampliamento dell'itinerario ripeto ad esempio del 795 dove qualora fosse distretto un po' questo bus e quindi c'è stato anche un'altra parte di zona di Trigoria dove poter poi usufruire di questo speriamo servizio che mi sembra un'ottima soluzione ed ecco volevo chiedere se era possibile inserire anche la parte di Trigoria alta grazie perfetto grazie grazie signor Stasi sì no allora Trigoria il 795 è in fase di revisione perché come diciamo prima anche con il presidente Santilli è nettamente sottutilizzato e quindi va ridisegnata la modalità insomma di attivazione del servizio e quindi il servizio bus chiamata potrebbe essere una di quelle di queste quindi e si è detenuto opportuno inserirla e quindi nella rimodulazione chiaramente l'attenzione andrà anche essendo servizio chiamata alle zone che non sono attualmente servite dal servizio 795 perché nel quartiere Massimile si è andata sul sito di Roma servizi proprio la pianta diciamo dell'area e fanno fermata nei 50 metri come ci diceva Roma servizi quindi proprio si individua un quartiere all'interno del quale un'autobus è chiamata come fosse diciamo più o meno servizio taxi lavora su paline apposite posizionate mediamente ogni 50 metri e quindi fa un servizio che collega il ferro quindi stazione ferroviaria ci mettere anche corridoi per la mobilità quando funzionante in maniera diciamo efficace come si sta cercando di fare piuttosto che fermate del fermato capolina della metropolitana e questa appunto è la sua funzione Trigoria Alta ci sta perché comunque è un tema annoso insomma che ci trasciniamo da tempo vari tentativi di soluzioni sono stati prospettati al momento senza esito e quindi insomma potrebbe essere che il fatto di avere un nove posti che anche come diciamo asse del mezzo permette il superamento di alcune criticità date da due curve se ricordo bene di accesso dalla parte della parte del quartiere di Noviola piuttosto che dal 251 dove c'era il Ponticello insomma potrebbe essere una soluzione intanto stiamo commissionando uno studio di infattibilità perché non mettere anche Trigoria Alta se i commissari sono anche essi d'accordo insomma per me mi sembra una cosa di buon senso quindi se i commissari sono d'accordo io segnalerei nelle zone dello studio anche Trigoria Alta che è un quartiere insomma che da sempre non ha il servizio pubblico quindi inoltre che lo spazio di un'altra vaccheria lo mettiamo la vaccheria il si posso intervenire scusa sì no dicevo vabbè il punto dove parla di Trigoria quindi anche perché ecco volevo sottolineare che ho diverse email a riguardo per dove persone abitanti diciamo lamentano questo questo servizio che viene che manca da anni e che manca che ci stiamo provando da anni quindi sì sì ma il messaggio è arrivato forte chiaro quindi lavoriamo appunto adesso sul testo per portare il servizio a Trigoria Alta allora ritorniamo dove eravamo rimasti perfetto niente più il quartiere di Trigoria Alta sinceramente Presidente io pensavo lo davo per scontato che c'era perché Trigoria uno serve tutto se fa lo studio di fattibilità sì anche secondo me però siccome più che altro inizialmente era legato all'attuale situazione della 795 che serve solo Trigoria non la cosiddetta navetta Trigoria forse specificare anche Trigoria Alta che oggettivamente è fuori dall'abitato è vero che è quartiere però in realtà ha una sua identità ben specifica è Trigoria Alta quindi ha altri rappresentanti insomma quindi io lo specificerei perché se no magari diamo per scontato nel considerato facciamo riferimento il 795 il 795 io direi semplicemente che quando facciamo lo studio su quel territorio lo facciamo l'unico non è che ne facciamo due staccati allo stesso quartiere di fatto poi che uno sta un pochino più su e l'altro più giù questo volevo dire mi sono espressa ma sì sì però forse tagliarlo magari da maggiore perché insomma ripeto quando abbiamo attivato il 795 nel lontano 2016 fu fatto uno studio su Trigoria proprio Trigoria non dico Bassa perché sembra enorme però Trigoria non si è presa in considerazione Trigoria Alta quando si è fatto uno studio su Trigoria Alta si è fatto uno studio su Trigoria Alta proprio perché sono due realtà oggettivamente dello stesso quartiere ma comunque anche con caratteristiche e tipologie differenti per cui insomma ce lo darei per scontato anche perché ne è considerato che parliamo della problematicità della linea 795 che è oggetto di attenzione e revisione perché è sottoutilizzata e stiamo diciamo investendo chilometri diciamo a fondo perduto e che potrebbero essere utili in altre situazioni quindi nella logica dell'ottimizzazione insomma se siete d'accordo io lo lo sottolineerei ecco poi è chiaro se fanno Trigoria fanno anche Trigoria Alta però diciamo se non lavorano su Trigoria secondo me perché proprio riferimento al 795 come emerso anche dalla dichiarazione che aveva fatto Roma Servizi quando ci indicarono delle aree secondo la loro percezione hanno parlato del 795 e quindi dell'area di Trigoria quindi metterei chiedo chiedo scusa signor Presidente sono sempre io sì infatti anzi la ringrazio che si viene sottolineata perché spesso e volentieri quando si parla di Trigoria come lei ha citato molto molto spesso viene dimenticata Trigoria Alta perché è staccata ma diciamo che fa parte sempre del quartiere quindi ecco chiedo innanzitutto la ringrazio ripeto perché se si può sottolineare proprio per questo motivo quindi sì sì per quello che stiamo facendo perfetto sì 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 no ecco la volevo ringraziare per l'attenzione ringrazio la fiducia ma non serve allora in quel tema di Trigoria Alta da sempre sprovvisto diciamo è anche da aggiungere che i punti critici dove diciamo quei punti proprio lì diciamo già c'è un passaggio di un bus scuola bus da Roma questo pure sarà oggetto dell'oscurio loro lo sanno insomma il loro mestiere quindi lavoriamo adesso sul documento poi su Trigoria Alta abbiamo speso fiumi di inchiostro e di parole e quindi insomma lavoriamo sul testo e quindi poi i dettagli verranno da sé dunque da sempre non servito lo servito pubblico locale anche a causa della sua conformazione morfologica così facciamo vedere che è una cosa diversa la conformazione morfologica morfologica allora il quadri di Corri Alta è da sempre non servito anche a causa di una conformazione morfologica e quindi lo riprendiamo sotto allora il consiglio del municipio rileggiamo un attimo il considerato quello che abbiamo aggiunto lo spazio politico di un atto la vaccheria presenta una affluenza di pubblico importante in occasione di molteplici manifestazioni che vengono organizzate e non usufrisce e attualmente mettiamo anche poi c'è in corso quel processo la non usufrisce del servizio del voto pubblico diretto il quartiere di Corri Alta era sempre non servito dal servizio del voto pubblico anche a causa della sua conformazione morfologica impegna il presidente e l'assessore a mobilità di attivarsi nel profondo della sua mobilità non capitale alla fine di incaricare il servizio per la mobilità di effettuare un'analisi delle aree di Castelli Decima Trigoria La Vaccheria Trigoria Alta Santa Palomba Quartiere di Castelli di Castelli Per individuare quella che in termini di costi benefici quindi c'è la valutazione del merito possa essere dedicata per l'attivazione del nuovo servizio della sua pubblica chiamata denominato clickbus predisponendo una capillare informativa ed un sondaggio conoscitivo sui territori sottoposti allo studio se per i commissari va bene quest'ultima stesura io tolgo i grassetti ok se allora tolgo la condivisione torno da voi non vedo mani alzate allora a questo punto io direi Maria la versione che ho su cui ho lavorato che è condivisa su Teams la dobbiamo protocollare va al presidente Bedoni cioè l'assegna e la votiamo la devo prima impaginare perché manca lo tema di Roma Capitale poi la protocollo la mando ufficialmente per mail al presidente Bedoni però può per stringere i tempi anche assegnarla direttamente qua a voce ok perfetto allora sospendiamo la commissione in a tutta la linea perché non riesco più non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è presidente c'è un problema tecnico freddo pronto pronto adesso sì allora no perché intanto sto usando lo spot è arrivata una telefonata quindi probabilmente si interrotta allora dicevo a questo punto avviamo la procedura come ha detto Maria sospenderei la registrazione chiederei la cortesia ai commissari di rimanere collegati perché a questo punto comanda Maria nel momento in cui ha terminato l'impaginazione la protocollazione e la trasmissione al presidente Benoni ritorniamo in commission pronto sì sì ok quindi niente procediamo così interrompiamo la registrazione vengo su da te tra l'altro e quindi abbiamo la procedura e ci ritroviamo dopo per la votazione perfetto interrompo la registrazione sono le 10.17 perfetto grazie a tutti la registrazione in corso sono le 10.41 procedo con un rapido appello per vedere se abbiamo il numero legale corrente presente Pedoni Urgio presente Panale presente Grazioni presente Sordini presente Vecchio Presente Perfetto il numero legale c'è ma non abbiamo l'assegnazione del presidente Pedoni Maria è arrivata via mail adesso in questo istante controlla è arrivata a me e a consiglio commissione sì perfetto perfetto allora possiamo procedere con l'appello per l'espressione di parere assolutamente sì corrente Favorevole Pedoni Burgio Favorevole Canale Favorevole Grazioli Sordini Favorevole Vecchio Favorevole faccio una seconda chiama Grazioli favorevole Grazioli favorevole sì sì una seconda chiama per il consigliere Bedoni perfetto sei votanti sei presenti sei favorevoli nessun astenuto nessun contrario la commissione scrive parere favorevole all'unanimità perfetto allora bene passiamo alle varie eventuali ci sono delle segnalazioni da fare eventualmente allora io farò questa nota in giornata un loto per le vie brevi insomma forse un modo di incontrarlo per altre faccende per il discorso ah così a canale sì sì presidente niente volevo segnalare la circostanza che è stato attivato il servizio della nuova da contratto insomma è stato stipulato però si è sentito male il servizio scusi il servizio della TPL cioè di periferia di autobus di periferia è nuovo però ci sono già degli servizi che sono stati segnalati mi hanno fatto presente che in alcune zone in particolare a Cecchignola Sud il 721 ci sono in partenza soltanto due autobus da contratto sembrerebbe che invece ce ne dovrebbero essere tre quindi volevo chiedere se è possibile fare una verifica con Roma Servizi della Mobilità e insomma il Dipartimento su questa questione che soprattutto negli orari scolastici sia da diciamo 7.30 8.30 sia il periodo dell'1 al 2 14.30 insomma perché sono i periodi come lei sa di maggior afflusso dei ragazzi ovviamente anche in concomitanza col fatto che gli abbonamenti sono gratuiti per i ragazzi se uno incentiva l'abbonamento l'utilizzo del mezzo deve fare in modo che vengano utilizzati grazie Presidente prego allora il passaggio come sapete da TPL al nuovo fornitore insomma avviene graduale il 7.21 secondo me non è ancora stato completato da quello che mi risulta però facciamo una verifica che sia completato meno anche TPL cioè il consorzio TPL poi di questo parliamo che il vecchio fornitore deve comunque garantire insomma quindi facciamo la verifica sia sulla tempistica del passaggio perché anche 702 mi hanno segnalato che presenta ancora molte criticità ho visto che alcuni mezzi 702 sono già passati a troiani altri ancora no per cui insomma si vive questa fase di convivenza che oggettivamente in terreno eh sì sì che non è insomma ottimale i mezzi troiani che ho visto vengono a parte gli ultimi che ho presentato l'altro giorno in piazzale agricoltura proprio dedicati alle periferie peraltro anche elettrici ma anche quelli attualmente in funzione sono di buona qualità insomma sono affidabili sono puliti e sono nuovi quindi insomma sotto quella quando subentra il nuovo il nuovo fornitore il servizio funziona dove c'è invece questa fase di commistione o ancora non è avvenuto si pagano gli scotti del motivo per cui appunto si è deciso di cambiare il fornitore si è fatto una nuova gara insomma il GPL non ha vinto quindi no comunque insomma anch'io so che sono tre i mezzi assegnati al 721 farò questa verifica insomma quindi farò fare questa verifica Roma Servizi e vi darò riscontro nella prossima commissione allora se non c'è altro non sono segnato se non c'è altro chiudiamo la commissione alle 10.45 buona giornata rispetto interrompo la registrazione non c'è altro non c'è altro